Musica Oggi sono presenti in questa piazza tantissime aziende Siamo sull'orlo del barco e non voglio essere cassante Spesso mi domandano, ma le nazioni economicamente emergenti che si nutrono di un capitalismo autoritario a quale modello si ispireranno se sarà cancellato quello europeo? Siamo al momento delle scelte decisive e coraggiose Tutti e tutte dobbiamo sapere che questo è un momento eccezionale della nostra vita Un periodo che passerà la storia Dobbiamo abbatterci adesso, dopo sarebbe troppo tardi Un giorno potremo dire orgogliosi di aver lottato perché in Europa e nel mondo non vincessero le barbari Sappiamo a nostre esprese che le crisi economiche fungono spesso e volentieri da detonatori di fenomeni politici e sociali e economici degenerativi Populismi, sciominismi, razionalismi, destrazione E non sono in Europa purtroppo Quella sottotraccia per lo tavolino Sottotracciale App los gruppi di Vikings staccat Sottotracciale Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.